Buongiorno e buon inizio anno scolastico! Tutto bene? Come sta andando questo inizio? Sia per le mamme, per il papà, per i nonni, per questi ragazzi che sono un po' assonnati. Stamattina Cristina si è svegliato così, devo andare a scuola, sì, devi andare a scuola, volevi andare a scuola. La scuola porta anche questa cosa bella di alzarsi così presto e diceva, eh sì mamma, eh sì. Ragazzi, poi mi chiedete spesso che cosa siano questi rumori che si sentono dentro casa. Beh, noi abitiamo molto molto vicini all'aeroporto, quindi sono gli aerei. Io ormai non li sento manco più, sinceramente ci si fa l'abitudine, all'inizio mi dava un po' fastidio. Adesso ho le finestre aperte, sto facendo il cambio di stagione perché comincio a fare un po' freschetto stamattina, quindi ho già iniziato, quindi se vedete un po' di pelucchi è per questo. Sul letto ho un po' un casino, guardate un po'. Ecco, ho un po' di roba e quindi niente, mi faccio sistemare questa mattina. Comunque, a proposito di inizio scolastico, stamattina quando Grissian si stiracchiava, che sembrava un po' di non aver voglia proprio di svegliarsi, gli feci vedere questa foto che trovai, mi sembra, su Facebook. Ho trovato questa, poi sono andata a verificare, insomma, che fosse veritiera, insomma, la fotografia e la storia che c'è dietro questa fotografia. In effetti è così. Allora, questa foto è stata fatta in Vietnam, dove questi genitori, per far andare i suoi figli a scuola, devono attraversare un fiume, un fiume pazzesco. Lo vedete, no? Sporco, pericoloso, insomma, non oso immaginare come ci si sentano, diciamo, questi genitori nel far attraversare questo fiume ai loro ragazzi. Beh, ma non è che lo attraversano in un modo, non lo so, normale, tipo hanno una barchetta, qualcosa. No, avete visto che cosa stanno facendo? Hanno messo i loro figli dentro una busta. Beh, all'interno di una busta c'è ossigeno per non più di tre minuti, più o meno due, tre minuti. Beh, questi genitori inseriscono i loro figlioletti dentro questa busta e ce la fanno ad attraversare questo fiume in un minuto. Quindi molto, molto prima, insomma, che questo ossigeno non ci sia più all'interno di questa busta. È una cosa terribile, è una cosa che mi ha messo un po' d'angoscia. Da un'altra parte è una cosa che feci vedere a Christian questa mattina per fargli capire l'importanza di tutto quello che avviene intorno a lui. La sua famiglia, la scuola, il fatto di andare a scuola in macchina, con la bici, insomma, tutte. Ecco, ecco l'altro aereo, come vi dicevo, aspettate un po' che vi faccio vedere. Ora, così come Christian questa mattina ha analizzato questa fotografia, ha pensato, ha fatto dei paragoni, ha capito, mi ha fatto delle domande, faceva, e si sporca, no? Quindi, insomma, in quel momento, inizialmente per lui la cosa più importante era il fatto che si sarebbero sporcati, che si sarebbero bagnati, che come facevano, diciamo, ad uscire dalla busta. E quindi, vabbè, io spiegai in maniera molto semplice, che chiaramente c'erano tante difficoltà, insomma, proprio per non farvela lunga, comunque sapete che Christian, essendo autistico, è un pochino più esigente quando gli si racconta qualcosa. Esigente perché bisogna spiegare le cose in maniera molto, io le chiamo crude, crude, ecco, le cose crude. Tipo, sputa il rosso, vai, dici la prima cosa che ti viene in mente senza addobbare molto, ecco. E devo dire che è molto difficile, cioè, non pensate che quando noi andiamo a riassumere qualcosa, qualcosa che porta una spiegazione magari un po' dettagliata, con un vocabolario ampio, e devi sintetizzare, eh, provateci, provateci, però è molto bello. Io ho imparato molto a sintetizzare e mi ricordo che lavorando in aeroporto, una mia collega mi disse un giorno, ma sai che quando passa un passeggero e ti dice, ma mi sa dire dov'è il bagno? Se gli spieghi troppe cose, la persona poi un po' s'annoia e neanche ti sente più quello che stai dicendo. Allora io feci una prova, ho detto, vabbè dai, adesso facciamo una prova, dai, la prossima persona che ci chiede un'informazione, facciamo così, insomma, facciamo prima una spiegazione dettagliata, poi una spiegazione più sintetica. Allora il signore ci chiese, ciao ragazze, mi sapete dire dov'è, che cos'era il negozio della team, all'epoca c'era la team in aeroporto, e nel negozio della team, allora praticamente io gli dissi, guardi, vedi quelle scale, dietro le scale ci sono quelle per scendere, lei scende, va a destra, prosegue tutto il corridoio e sulla sua sinistra troverà in negozio della team. Per me era una cosa super perfetta. Cioè, se analizzavi quello che stavo dicendo, ci arrivavi tranquillamente, dove ti stavo dicendo, e il signore fa, ah ok, vabbè, ciao, se ne è andato, ma proprio ci aveva la faccia. Infatti è arrivato dietro la scala, il signore chiese nuovamente ad un'altra persona, lì ci siamo proprio messi a ridere, abbiamo detto, cioè, incredibile, e la persona successiva, insomma, a chiederci delle informazioni, abbiamo semplicemente detto, guardi, vada dritto e seguo le informazioni, ok, grazie, ha cominciato a guardare e poi, insomma, non sono la cosa che è arrivata a destinazione. Però abbiamo notato questo, di certo, abbiamo notato che questa persona aveva lo sguardo più tranquillo, più sereno, perché? Perché probabilmente quando noi pensiamo a troppe cose, e in questo caso io vedo Christian, quando lui è sommerso dai suoi pensieri, non è interessato magari a quello che io gli sto dicendo, e non solo Christian, penso che i ragazzi in generale siano un po' così. quando sono sommersi dai loro pensieri, e noi cominciamo a spiegare le cose in maniera troppo dettagliata, e io sono molto, molto di quel genere, sono una che chiacchiera parecchio, quindi me ne accorgo a volte, anche rivedendo i video, e anche quando vedo che voi me lo dite, dai, ma però sei stato troppo, poverino, glielo hai detto 50.000 volte, lui invece stava pensando a qualcos'altro, io dico, ma sapete che è vero? Eh, quindi voi mi insegnate tantissimo, e sto imparando a limare anche un po' queste cose, non significa che non debbo insistere, ok? Quando voglio che Christian capisca qualcosa, proprio perché se noi genitori diciamo, ok, l'obiettivo questa mattinata è di far sì che Christian capisca questo tipo di regole, ok? Nel momento in cui noi chiediamo al nostro figlio, che ne so, metti a posto le scarpe, dal momento in cui diciamo, facciamo questa richiesta, il compito deve essere portato a termine, perché se Christian non porta a termine la mia richiesta, il giorno successivo, quando gli dirò a Christian, metti il cappotto a posto, ti dirà no, cioè i bambini non sono scemini, eh, capiscono perfettamente, anzi sono talmente furbi, bambini, ragazzi, adesso ho detto bambini perché pensavo nel frattempo a Noah, ok? E a Noah che ha iniziato da poco l'asilo nido e stava andando malissimo, diciamo che sta andando un pochino meglio adesso perché lui è molto mammone, ancora lo sto allattando nonostante abbia compiuto l'anno il 2 settembre e anche con Noah, insomma, già anche così piccolo bisogna creargli delle regole, fargli capire che quando mamma dice no, è no, se poi piangi, è peggio per te, mamma ha detto di no, intanto non succede niente se piangi, ok? E poi quando smetti di piangere, allora mamma ti coccola, ti dice guarda questo non lo puoi fare e quando smetti, per farti capire che la comunicazione è quindi è tutt'altro, allora magari io ti posso accontentare oggi un pochino, domani ti dico più tardi, come facevo con Christian quando era piccolo allora quando arriviamo all'albero, quando arriviamo al centro commerciale, quindi allungare diciamo i tempi sia di attesa che i tempi di attenzione, proprio per questo oggigiorno io riesco a dire a Christian con tranquillità, no, non si può, assolutamente no, perché? Perché non è il momento perché non si può, punto e basta e quindi lui accetta questo no come qualcosa diciamo di definitivo senza fare le lagne, senza buttarsi per terra, insomma, e devo dire che prima era molto tragica la situazione, lui si buttava proprio per terra in mezzo al centro commerciale e nonostante gli sguardi delle persone, che devo dire che io non me ne sono mai interessata, proprio non mi interessa che la gente guardi, mi interessa la mia vita, mi interessa risolvere il mio problema, il problema di mio figlio, crescere mio figlio nel modo migliore e di conseguenza se mi guardavano, dicevo ok, prima non sapevo che era autistico, quindi dicevo vabbè, sta piangendo, allora quando ti alzi tranquillo, mi spieghi la situazione, allora forse risolviamo, ok, però devi parlare, quindi il modo per comunicare non è urlare, non è buttarti per terra, il modo per chiedermi qualcosa ed ottenerla è parlare, e Christian non parlava e non diceva niente, oppure segnalare, perché poi nel momento in cui scoprì che Christian era autistico, ugualmente pretendevo qualche tipo di comunicazione funzionale, ok, quindi non pianti, non ti putti per terra, no, niente di aggressivo assolutamente, no, mi segnali, impari a fare così col dito, mi prendi la mano, insomma, ci sono tanti modi per comunicare, se ti faccio vedere ti posso aiutare chiaramente, quindi ti faccio vedere il telefono, ti faccio vedere, non so, la foto di un gelato, la foto di una bottiglia d'acqua, che cosa vuoi, allora lui magari mi segnalava, insomma, trovare comunque un modo di comunicazione che sia funzionale. Insomma, avete visto che sono una chiacchierona, io sono passata dal discorso dei bambini che devono attraversare il fiume e poi mi sono persa in altre conversazioni, però questa cosa mi fa bene anche a rivalutare, diciamo, i miei comportamenti con Christian, parlare con voi inizialmente senza ricevere risposta, perché questo è un monologo, mi trovo davanti alla telecamera, quindi è un monologo, mi aiuta prima di tutto a capire me stessa. Successivamente, quando voi mi rispondete, mi aiutate tantissimo a risolvere quindi i miei problemi con me stessa. Allora guardo lo specchio, guardo lo specchio, mi guardo e dico, ciao me stessa, dai oggi questo andrà meglio. Allora ragazzi, tornando al discorso di prima, dicevo che Christian, guardando questa foto, alla fine ha fatto, ha trovato, diciamo, dei modi per capire, ok, mi devo alzare, sono un po' un pigrone, c'è gente che sa peggio di me, adesso mi tiro su perché io sono fortunatissima. Ecco, l'idea di questo video in generale, insomma, è questa. Volevo augurarvi di persona, ecco, perché l'ho fatto ieri attraverso un video di Christian, mentre l'ho trovato, l'ho trovato, insomma, che faceva questa canzone di Alex Britti, l'ha ripetuta all'infinito, cioè praticamente quando l'ho registrato era già tipo la stessa volta che si registrava continuamente, ecco, perché lui voleva la perfezione, ecco, e mi ha fatto molto piacere, soprattutto perché ho visto che ogni volta che la ripeteva, migliorava questo accento, migliorava, insomma, a livello verbale, la musica lo aiuta veramente tanto, e quindi a fine video vi ho scritto, insomma, tantissimi auguri di buon inizio anno, e però ci tenevo a farveli di persona, ok, e spero che questo messaggio che mi ha portato in questa mattina di questi ragazzi serva a capire a non solo ai ragazzi, ma anche ai genitori, che a volte ci alziamo la mattina e diciamo, mamma mia, non ce la paro, non ce la paro, ce la dobbiamo fare, e ce la faremo, e ce la stiamo facendo, ok, è meglio pensare in positivo, io quando vi dico queste cose, mi servono anche per me, perché io non sono perfetta, molti di voi a volte vi dico, dai mamma, sei sempre così calma, non è vero, guardate un po', ieri era una giornata un po' particolare, adesso finisco, però ci tengo a fare questa parentesi, perché a tutti ci capitano i momenti, no, ieri proprio era una giornata in cui, no, con l'asilo, insomma, tutta la situazione che non andava bene, io ero molto stanca, e non riesco a dormire quanto vorrei un anno, che non dormo più di tre ore, quindi immaginami come sto, guardate le mie occhiaie, un po' di stress, poi sapete noi donne, o quando ci abbiamo il ciclo, quando ci abbiamo un momento, non ho un momento per me stessa, a volte, devo fare il bagno a volte con Noah, addirittura con Noah e con Christian, a volte, perché comunque Christian, nonostante faccia da solo, gli devo dire, dai, sotto l'ascella è bene, insomma, che se no esce con una puzzetta, ecco, mi aiutano tanto mia suocera e Lester, anzi, da ieri, Lester e mia suocera stanno dormendo insieme con Noah, per farmi riprendere un po', mi hanno detto, guarda, adesso dormiamo noi con lui, perché, per vedere se questa storia dell'allattamento al seno, insomma, gli passa un po', cioè, la notte, voglio continuare ad allattarlo, ok, ma di notte no, perché si sveglia ogni due ore, essendo molto un mammone, molto attaccato a me, ormai mi ha preso da ciuccio, ok, quindi ecco, sono molto stanca e dicevo, ieri mi sentivo per terra, a pezzi, quando dici tutto, tutto mi va storto, ecco, ieri tutto mi andava storto, quindi non trovavo nessuna soddisfazione, nessuna cosa che mi facesse avere un po' il sorriso e io lo dissi, io lo dissi a Lester, scusate, eravamo in macchina e gli dissi a Lester, ancora, eravamo in macchina e gli dissi a Lester, oggi, perché mi ha detto, come stai, come mai, sei così, ho detto, guarda, non ne parliamo, oggi sento che tutto mi va storto, sono molto negativa, quindi lasciamo stare, e Lester si è un po' incavolato, invece di, io magari volevo che mi facesse le coccole, invece si è un po' incavolato e mi ha detto, eh scusa, ma tu sei quella, che sei tutta positiva davanti alla telecamera e poi fai queste cose, ma non ti vergogni, dice, eh quando fai così non ti sopporto, cioè proprio mi ha trattato malissimo, io speravo che facesse il controllo e mi ha trattato malissimo, però, malissimo per modo di dire, però forte, ecco, allora io lì ho detto, cavolo, c'ha ragione, vabbè, pianto un po', è stata un po' così, un po' stressata e poi dopo, insomma, mi sono tirata su e ho capito il senso di questo spronarmi, ok? E quindi ecco, anche se ci sono dei giorni no, spero, ritroviate in questo inizio anno scolastico, in questo inizio, ogni giorno è un inizio, e troviate serenità, positività, forza, sia ai ragazzi, sia alunni, insegnanti, tutti, 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 quindi un bacio grandissimo, io torno a fare il mio dovere prima che arrivano le pesti, eh, che devo fare un po' di cosette, ci vediamo nei prossimi giorni, e per ultimo, ma non meno importante, anzi, anzi direi, importantissimo, grazie ragazzi, siete tantissimi, abbiamo superato i 61.000 iscritti, è bellissimo, cioè siete delle persone meravigliose, sensibili, siamo una squadra fortissimi, come dice Checco, Beh, un bacio grande, vado, eh, ok? Grazie a tutti, a presto, ciao, ciao! Ciao, Antonella! I miei giochi preferiti sono i superwings, andare a cavallo, addomino, i memori, e giocare a tris! Un bacio! 5 con 8! Gatti! 5! 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 6! 6! 5! 6! 6! 7! 7! 9! 10! 7! 10! 9! 10! Grazie a tutti.